A partire da ieri, anche nelle scuole pesaresi è scattato l'obbligo di Green Pass per docenti e personale scolastico. La misura entra dunque in vigore a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico, nelle giornate destinate agli esami di recupero per gli studenti e all'organizzazione complessiva degli istituti per il ritorno dei ragazzi tra i banchi. Durante la prima giornata di verifiche in merito al possesso della certificazione verde da parte di professori e dipendenti all'Istituto Comprensivo Statale Galilei di Villa Fastigi a due docenti, sprovviste di pass ma munite di semplice autocertificazione, non è stato consentito l'accesso alla struttura ed entrambe sono state poi considerate assenti ingiustificate. La regolamentazione in materia prevede che dopo cinque giorni di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e lo stipendio vengano sospesi. Il resto delle verifiche nei vari plessi cittadini non ha condotto a situazioni di particolari criticità, anche se in alcuni istituti si sono verificati ritardi per il corretto svolgimento dei controlli, motivo per il quale è atteso l'arrivo del registro elettronico e della nuova piattaforma digitale in dotazione alle scuole, come spiega il preside del liceo scientifico Marconi e presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi Riccardo Rossini. Oggi ci sono gli esami di recupero, dei debiti che non sono stati saldati a giugno, tutto normale, tutto veramente molto tranquillo, ero un po' preoccupato per l'inizio dell'anno scolastico, il primo settembre con la presa di servizio del personale scolastico, direi che il 90% del personale era in regola con il Green Pass, 11% lo era comunque ma con i tamponi anziché il vaccino. Abbiamo effettuato tutti i controlli, abbiamo utilizzato l'app Verifica C19 che si può scaricare ognuno di noi da Google Play, da Play Store, abbiamo utilizzato 5 o 6 collaboratori scolastici in prima battuta perché lì avevamo 250 persone che entravano a scuola. Al fine di evitare una lunga coda abbiamo utilizzato molti delegati, però credo che non ci saranno grossi problemi, anche perché il Ministero sta prontando una piattaforma per fare il controllo sul sistema applicativo Sidi, che è quello ministeriale, che colloquia con il Ministero della Sanità, quindi i dati possono essere visti direttamente dagli operatori scolastici. Al mattino si apre l'applicazione, si vedono quelli che sono verdi, cioè dotati di Green Pass idoneo e poi ci sono quelli rossi sul quale ci concentreremo, che sono quelli che non sono in regola.